Quali sono le caratteristiche principali del panno casentino che lo rendono unico? È nato a livello industriale in questa vecchia fabbrica e che comunque accomuna un po' tutto il casentino. Diciamo che qui si è industrializzato questo panno e è stato fatto conoscere fuori anche dai confini della Toscana. Però quello che lo caratterizzava poi era la termicità, quindi quanto era un tessuto molto caldo. Qui in Casentino stia specialmente rispetto anche a tutto il Casentino, probabilmente era il paese più freddo. Quali sono le difficoltà principali che trovate oggi e come cercate anche di porvi rimedio? Le difficoltà sono in questo momento per noi che si lavora un prodotto di 100% lana e anche un po' l'approvvigilamento delle lane. Perché purtroppo quelle italiane da diciamo fino a 800, primi del 900 è un po' scomparsa la lana diciamo italiana. Ed era quella che si utilizzava per il panno casentino. Oggi con la concorrenza cinese proprio sulle materie prime, come è già successo da diversi anni nel Kashmir, anche nella lana c'è un forte aumento di prezzi della materia prima proprio per il monopolio che ne sta facendo la Cina con le sue produzioni più grandi a prezzi un pochino più stracciati. Se guardiamo al futuro ci sarebbe un desiderio, un qualcosa che vi piacerebbe realizzare? Ma il mio sogno utopistico è ricreare la lana nostra proprio, ripartire proprio da quello. La vedo molto dura oggi con la situazione com'è, però spero che comunque si mantenga viva comunque la tradizione. Insomma i periodi sono quelli che sono, oggi è sempre più difficile anche mantenere queste piccole realtà come noi, come l'altra azienda che comunque da un livello industriale come poteva essere qui da quasi tutto l'800 e quasi tutto il 900 insomma ridursi in piccolo è sempre più dura, insomma farsi strada nel mercato.